che cosa sta facendo sto mettendo un po di antigeno vino rosso vino rosso giustamente ok c'è buon comunque non si è fatto niente perché adesso ce l'ho messo perché l'avevo messo poco anche l'altra volta però come stava quando so partire è rimasta infatti ci arrivavo con l'acqua con il dito a prenderla quindi mi ha contumato ottimo adesso gli ho fatto il livello perché mi ha detto camminaci così eviti di fare bolle è stato bravo è stato bravo con il carico bravo con il carico bella bionda ora te lo prendo internamente è stato bravo con il carico c'è buon